Cosa dice Dino? Non è sbagliato, freddissimo qui! Occhio al suo movimento! Avanza, prova a sorprenderlo! Stando a radiomercato, il giocatore sarebbe seguito da diversi club. È presto per dire dove... Prova la botta! La spazzata in calcio d'ago, l'intervento decisivo del difensore. Può portarsi in vantaggio. Occhio al tiro! Una bella punizione, ma certo l'atteggiamento difensivo è da cancellare. Occhio, cerca l'area di rigore. C'è la frateria per andare. E c'è la conclusione. Occhio al tiro! Una bella punizione, ma certo l'atteggiamento difensivo è da cancellare. Il potere l'ha toccata, ma non è riuscito.